Salve a tutti ragazzi qui è Zerk e benvenuti in quest'altra nuovissima puntata di Robocraft Allora come promesso il satellite verrà definitivamente cancellato E faremo come promesso anche a un mio fan il tutorial per costruire quell'aereo fantastico Quindi aereo anzi faremo proprio qualcosa di nuovo qualcosa che è qualcosa di più figo Poi vediamo durante il gioco cosa riusciamo a fare Voglio metterci subito il nome Che non come solito non ho mai un'idea ben precisa Aereo Zerkoso Zerkoso Vai Zerkoso Vai vada bene così Allora Quindi Mi dispiace ma Eliminiamo definitivamente Questo Satellite Non useremo più i cubetti aereo perché rallentano Ho capito che i cubetti aereo rallentano Allora alziamo la nostra struttura e partiamo subito con i nostri blocchi blu Facciamo una base di tre Così Facciamo subito una base di tre Lunga? Quanto? Non lo so Facciamo tre Il pilota va qui e altre tre Per adesso Un, due No Forse è un po' troppo corta No Dobbiamo farla più lunga Quindi perché poi Come al solito mettendo le ali Le allunghiamo sempre di più Allora Vediamo un attimo la lunghezza Ideale Quale sarebbe Iniziamo a togliere questi centrali E poi li mettiamo dopo Quando ci servono Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette O Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Sì undici Facciamo Cinque Cinque Il centro Ok Allora Per prima cosa Voglio mettere Questi Le protezioni Una qui E la L Da quest'altro lato Ah cacchio Allora non era di tre Era di quattro Ho sbagliato E chiedo perdono Quindi la base di quattro Ecco così vedete Con la base di quattro È molto più figo Ok base di quattro Protezione in avanti In questo modo Allora poi abbiamo detto Il pilota va Uno Due Tre Quattro Cinque Pilota Va qui Come avevamo visto Il pilota Ha un peso Il suo peso È 15 Kidi Quindi per bilanciare il tutto Dovremmo mettere Questo blocco qui Che è di 15 Kidi Qua Così è bilanciato Sia di qua stanno 15 Kidi Sia quest'altra parte Stanno 15 Kidi Altrimenti L'aereo Planerebbe sul lato Del pilota Ok Fin qui Ci siamo Ed è tutto chiaro Quello che volevo fare Di altrettanto Fico È mettere dietro Un qualcosa Del genere Facendolo partire Da Qua dietro Sì Diciamo così Sono Uno Due Tre Quattro Cinque Sei E sette Uno Due Tre Quattro Cinque Sei E sette Sì E sotto Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Cacchio Allora Mettiamoci questo Ecco Si alza Sei E sette Giusto? Quindi Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Uno Due Tre Quattro Cinque Sei E sette Adesso si Incominciamo a metterci già i primi Cannoni Ah qui non vanno Cacchio Allora Quindi uno qui Quindi ne abbassiamo di meno Togliamone uno Qui E qui In questo modo E magari Magari Dai Che vi dico Qua ci mettiamo un blocco Qua ci mettiamo un altro blocco Altrettanto qui Altrettanto qui Altrettanto qui E qui gli mettiamo le ali Uno Due Tre E quattro Mamma mia Ehm Ah Sì sì Adesso dietro però non possiamo mettergli un'ala Ma ne dovremmo metterne due Adesso sì Le ali Le ali grandi Io ne metterei Un'avanti Cioè due avanti E altre due Più dietro Dove sta il pilota Se possiamo metterla Dietro Un po' Giusto un quadrato un po' più avanti Così Così Adesso qui dietro vediamo questi T6 Non credo che riusciamo Eh Diciamo a mettere pochi Poi No no Non vanno bene Devo mettere forza Diciamo Allura Allura Allunghiamo di tre E proprio viene sbilanciato Poi se lo allunghiamo Effettivamente sì Magari lo testiamo poi magari Dopo lo testiamo Abbiamo altri due blocchi Qui Che non credo Possano andare Mettiamo l'ala Infatti Da fastidio Quindi Li togliamo E Le ali Diritte Perché queste servono E un'altra qui Che non abbiamo E adesso andiamo Ad acquistare No Qui sono tante di quelle ali Che Che nemmeno L'aeronautica Militaria italiana Comunque 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 Ecco qui Per fare tutto Più figo Guarda che figata Di aereo Con quattro Anzi Anche se i cannoni Qui sopra Non servono Non servono molto Però E' bello E' bello E' bello E' bello Basta E' bello E' bello Vediamo se riusciamo A metterne Altri cannoni Qui Ah cacchio Sono troppo grandi Dovremmo tipo Allargare così E Metterli In questo modo Grande Un altro No Non lo possiamo mettere Qui Sono le ali Qui Non possiamo Metterlo Perché poi viene Se ci bilancia L'aereo Ma Quanti cannoni Abbiamo però Ma ne abbiamo Solo un altro E il centrale Non si può mettere No Noi dovremmo magari Acquistare altri due Altri due Da poter posizionare Qui dietro Nemmeno Qui Qui dietro Deve essere più largo Se viene Ah no no Questi altri blocchi Dobbiamo cambiare i blocchi Mettiamo questi rosa Che comunque sono Abbastanza resistenti Facendo una cosa così Vediamo se va Nemmeno Non va bene Nemmeno così Va bene Qua c'è l'ala E nemmeno va bene Vabbè la stessa cosa Qua sopra È inutile Metterlo Ok Allora Allora Vediamo se riusciamo A proteggere Dove sta il pilota Se metto No Troppo in basso Non va bene Se mettessi Questi Così Così Però sopra Allora Vediamo se va Faccio Così Così Poi Qualcosa No Se a me Non va bene No Anzi Se faccio Prima L Poi Sì Così Sì Sì Va E così Non va Però se io cambio Giusto Prendo L'R Non va Ok Prendo l'L Va Quindi qua devo prendere la R Lato destro E il pilota Credo che sia abbastanza protetto In questo modo Sì Protezione Ottima Allora Ci manca Il radar tier 5 Che deve essere posizionato Qui è troppo esterno Non mi piasa Qui Ecco Qui si va bene Sì Ok Il radar esterno Questo qui Serve per Dare la posizione dei nemici Anche ai nostri alleati No Qui c'è il pilota Qui non va bene Posizioniamolo Posizioniamolo Qui E poi Ci rimane proprio Una spunta Da 698 A 710 Non è proprio una spunta Quindi credo che Questo è qui Di R3 Oppure Questo è T5 Lo potremmo Posizionare No Non ce la possiamo mettere T3 Nemmeno Cacchio Vabbè Posizioniamo Questi che sono Molto importanti Se ci ribaltiamo Possiamo mettere uno solo E qua si può mettere Poco a fianco Al pilota Ci rimane sempre Un'altra Un Un piccolissimo Oggetto Quanto Consumo Di CPU Che credo che Siamo un po' lenti 11 Forse non Riusciamo a mettere Vedere No Nemmeno Mi sa che siamo Un po' lenti Sì Solo due reattori Non credo che vada bene Proviamo Vediamo come va E i due cannoni Sopra Tier 6 Non vanno bene Perché se noi stiamo In alto Giustamente Essendo un aereo Siamo in alto E infatti Non ce la facciamo a volare Siamo troppo pesanti No No Non ce la facciamo a volare Oh invece si Invece si Forse perché Qui Invece si Ce la fa E vola anche bene Siamo un po' lenti Però vola Mamma mia Distruzione Super Guarda come gira Bam Verso l'infinite Ed oltre Eccolo lì Un altro Bam Niente Quella vola Non l'abbiamo riuscita Non l'abbiamo riuscita A colpirlo Questo vola Niente Ma noi Questo qui Lo colpiremo sicuro Bam E rimane sempre Il dubbio Di questi due cannoni Sopra Che possono Solo Essere utili Se Magari Siamo Impicchiata Così O magari Abbiamo un altro aereo E stiamo sparando in alto Tipo un aereo E quindi Possono Tornarci utili Così Impicchiata Mamma mia Mentre se Stiamo in salita Non riescono Giustamente A sparare Verso il basso Ma Come aereo Credo che Vada più che bene Guardate Guarda come gira Guarda come gira Anche se Avrei preferito Mettere qualche reattore In più Perché se ci distruggono Quei due reattori Dietro Per noi È finita Quindi credo che Visto L'esigenza Di avere Quei due reattori Dietro Voglio vedere Se li riesco A spostare Qui davanti Dove sono un po' Pi' protetti Qui magari Eh Qua dobbiamo eliminare Questo qui Mi dispiace Magari qui Che sono più protetti Non dovrebbe causare Problemi Per quanto riguarda Il Questo è appeso No Non è appeso Quindi possiamo Tranquilamente metterlo qui Stavo dicendo Non dovrebbe causare Problemi Per quanto riguarda Il bilanciamento Dell'aereo Però testiamo Comunque E partiamo subito Anche perché Sì Eh Quindi Un altro problema Fondamentale E che se Nel caso Cadiamo a terra Ecco Facciamo questa fine qua Non riusciamo più A rialzarci Quindi dovremmo trovare Qualcosa Per poter Infatti Non causa Nessun Problema Per quanto riguarda Il bilanciamento Dell'aereo BAM Ok Ci siamo Il nostro aereo È pronto È figo Perché C'ha Questa Forma X Qui dietro Che Credo che Non abbia mai Fatto nessuno Ecco Vedete Sembra più Un'astronave Che ci fare Ah Tu Benvenuto Nel regno Dei morti Anche tu Ecco Ti accontento Guarda Come sale Impicchiata Ah Ecco Ecco Questo è il problema Che se cadiamo Essendo Qui sotto Più basso Dietro L'aereo Rimane inclinato Verso il basso E non riesce A risalire Non riesce A salire Con la punta In avanti Quindi Questo è un problema Che dobbiamo Ovviare Da subito Come potremo fare CPU Ne abbiamo Pochissima Quindi Come blocchi Dovremmo usare Qualche blocco Tipo questo Molto Che Fus Può dare problemi A questi Cannoni Avanti Perché Sì Può dare problemi A questi Cannoni Avanti La cosa Ideale Sarebbe Quella Di mettere Magari Dei reattori Qui Verso L'alto Che uno Quando spinge Verso L'alto Partono i reattori E gli da La spinta In questo In questo modo Però non ho visto Una cosa Io questo Non riusciamo a mettere Giù No Fare proprio una punta No Non riusciamo No Niente da fare Niente da fare Niente da fare Quindi Dicevamo Il problema È se nel caso Ci schiantiamo A terra Non riusciamo Più a rialzarci Allora Una cosa Voglio provare Se io facessi Qualcosa Del genere Solo questi qua Penso che Così Comunque Dovrebbe Andar bene Tipo Ha un appoggio Diciamo Mantiene un po' Più alto E di conseguenza Ci permetterebbe Di Rialzarci Subito A casa Sono blocchi bianchi Quindi al minimo Colpo Ecco Basta Noi giriamo Un po' Destra E sinistra Ci rialziamo Per adesso Purtroppo Non possiamo fare Altro Perché La cpu È completamente Carica Quello Che potremmo Fare però È vedere Se riusciamo a posizionare Questo In un'altra zona Qui E penso Che vada bene E eliminare Questi blocchi Qua dietro Quindi abbiamo Recuperato Un po' Di cpu E E Un gara Qui Anche se potrebbero Da fastidio Se noi andiamo In picchiata Sono proprio Parallelamente Avanti A questi Cannoni Qui Quindi Direi che Forse L'ideale Sarebbe Quello Di metterli No Qui Ma qui Oh cacchio Te l'ho messo No Poi Metterli Qui È brutto Però Estremamente Brutto È brutto Brutto Però quello Che possiamo Fare Solo questo Oppure Sostituire Tutti i blocchi Blu Con magari Questi blocchi Rosa Che sono Meno Resistenti Però Occupano Meno cpu E quindi Ci permettono Magari Di posizionare Altri Altri Strumenti Oppure Aumentare Subito Il livello Di player E quindi Avremo Anche Più cpu Siamo Tier 6 Appena Tier 6 E Direi Appena Tier 6 E direi E potremmo Vediamo se ci permette Magari Di fare Una cosa Del genere Sì 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 Sono tre Giusto Uno Due Tre Solo tre Non so Se risolviamo Il problema E nemmeno Dei cannoni Risolviamo Il problema Però Se noi Facciamo Così Potremmo Utilizzare Al meglio Questi cannoni Ah Non li posso Piazzicare Se li metto Sotto Sì Sotto Sì Direi Però adesso Mettiamoli Qua Questi Sicuramente Saranno Molto Più Efficaci In questo Modo E magari 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 Se questo Qui Serve per Nel caso Noi ci ribaltiamo Lui ci fa L'onda Energetica Diciamo Lo mettiamo sotto Che se nel caso Non riusciamo proprio Ad alzarsi Ci spariamo l'onda E poi partiamo Ultimo test Perché giustamente Quei cannoni Hanno un peso Noi adesso L'abbiamo portato In avanti Questa è una cosa Molto Una cosa molto importante Da Da Verificare Allora Partiamo da terra Abbiamo un po' di rialzo Sì Spingendo un po' a destra A sinistra Ok ci alziamo Vediamo come va l'aereo E No va diritto Non cala verso il basso Ok Ok ci siamo Quindi Adesso vi faccio vedere Come la potenza di fuoco È totalmente cambiata Che cacchio hanno combinato Si sono sdoppiato O sbaglio Bam Bam Andiamo un po' lenti Eh Bam Siamo un po' lenti Che giustamente Abbiamo solo Questi due reattori Ma non li riesco A colpire Questi che volano Vai Vai Qual è quello che spara L'ho colpito Lo distrisce Adesso l'ho colpito In pieno Siamo un po' lentini Però Purtroppo Non possiamo fare altro Ho il punto Potremmo fare dell'altro Però Dovremmo eliminare Questa Figaggine assurda Del tipo Togliere due protezioni Dall'alto Del pilota Due protezioni Che proteggono L'alto Del pilota Queste qui Togliere queste due Perché Ci danno Molto a più Ci consumano Molto cpu E inserire Degli altri Tier 6 Degli altri Tier 6 Degli altri Tier 6 Altri Tier 6 Anche se non c'è spazio Tipo Qui Non mi piacciono Allora Come prima Due Uno Due Tier 6 Uno qui Un altro qui Cacchiano Per poco Non la posso mettere La mette Ah Eh no Mi sa che se non posso mettere Un blocco Non potrò mettere nemmeno Un altro tier 6 Tier 5 Giusto per vedere solo se lo posiziona Sì lo posiziona Qui non li posso mettere però Sotto Come vedere Qui sì E allora Se li posso mettere sotto Metto dei tier 3 Ne ho 4 Ne ho 4 Uno qui Uno qui L'altro Ah la c più Porca trota E qui Sì No no Non la posso mettere qui Non va bene Però qui Nemmeno Ah qui nemmeno Qui sì però Lateralmente Vediamo un po' di potenza Laterale E sicuramente saremo Molto ma molto Ma molto Ma Molto Ma molto Più Veloci Magari Se possiamo fare Un qualcosa Del genere No scusami Sì Eh no Non li posso Lo mettere Allora Io direi Quasi quasi Di far Di lasciarlo Così Ah cacchio L'ho cancellato Giusto per dare Un altro po' di protezione Se nel caso Ci colpiscono In avanti Però 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 Va bene Va bene Dai Mi piace Come aereo Mi piace Mi piace Per davvero Anche perché Quella forma di X Dietro Con quelle quattro ali È figa E se invece Mettessi No non le posso mettere Le ali diritte Diciamo Sia sopra che sotto Non servono a nulla Sotto non posso mettere I cannoni Va bene Quindi Ehm Volevo fare una prova In battaglia Però Abbiamo Oltrepassato I 28 minuti Ragazzi E quindi Credo che sia Un po' troppo Lungo il video Verrebbe un po' troppo Lungo il video Lasciamo stare Vi prometto però Che nel prossimo video Lo proveremo Lo testeremo Lo faremo Tutto Sì ma A voi Quindi Da Zerk è tutto Io vi ringrazio Per la visione Spero di esservi Stato utile Con questo progetto Di un aereo figo E vi farò sapere Se è anche efficace Perché Quello che noi cerchiamo Soprattutto È qualcosa di davvero Ma davvero efficace Quindi Vi ringrazio Per la visione Vi invito come sempre A iscrivervi al canale O alla pagina Google Plus O quella di Facebook E ci vediamo Al prossimo episodio Da Zerk è tutto Alla prossima Ciao